Prendiamo sul piano un punto P di coordinate x con 0, y con 0 e una retta di equazione ax più by più c uguale 0. Diciamo subito che per l'applicazione della formula della distanza, che vedremo a breve, dobbiamo prima esprimere la retta in forma implicita, forma nella quale nessuna delle due variabili è ricavata in funzione dell'altra, e tutto è a primo membro e a secondo membro abbiamo 0. La distanza D è la minima distanza tra il punto e la retta, misurata prendendola perpendicolare alla retta dal punto P. La distanza D si calcola utilizzando questa formula, nella quale a, b e c sono i coefficienti della retta scritta in forma implicita, e x con 0 e y con 0 le coordinate del punto. Sarà questa la formula che applicheremo negli esercizi. Ma bando alle chiacchiere e vediamo tutto nella pratica. Vediamo il primo esercizio. In questo caso dovremo semplicemente applicare la formula. Facciamo un disegno per rendere più chiaro il problema. Rappresentiamo il punto P e la retta data. Dovremo calcolare la distanza D. Per prima cosa esprimiamo l'equazione della retta in forma implicita. Per farlo, portiamo tutto al primo membro, ordinando poi in sequenza x, y e termine noto. Ora possiamo applicare la formula. Ho evidenziato i coefficienti della formula con diversi colori. Evidenziamoli anche nella retta in forma implicita. x con 0 e y con 0 sono le coordinate del punto P. Sostituiamo i valori nella formula e svolgiamo i calcoli, fino a semplificare. A numeratore abbiamo il valore assoluto di meno 8. Il valore assoluto rende il suo argomento positivo, quindi possiamo toglierlo scrivendo 8. Ora dobbiamo razionalizzare per togliere la radice dal denominatore. Moltiplichiamo allora per radice di 5 fratto radice di 5, quindi uno che ci permette di non cambiare il risultato numerico. Per approfondimenti vi rimando al mio video sulle operazioni con i radicali. Come risultato finale per la distanza, otteniamo 8 quinti radice di 5. Vediamo il secondo esercizio, nel quale ci viene chiesto di calcolare la distanza tra due rette parallele. Per capire meglio come agire, rappresentiamo graficamente il problema. Sappiamo che rette parallele non si incontrano mai e hanno allora sempre la stessa distanza. Possiamo scegliere un punto casuale su una retta, la prima per esempio, e poi calcolare la distanza di questo punto dalla seconda retta. Scegliamo allora un punto sulla retta R1. Per renderci la vita più semplice, assegniamo alla x il valore 0, per poi ricavare il rispettivo valore di y sostituendo nell'equazione della retta. Otteniamo meno 1. Allora, il punto di coordinate 0 e meno 1 sarà il punto che ci permetterà di calcolare la distanza tra queste due rette, come evidenziato anche sul grafico. Esprimiamo la seconda retta in forma implicita, portando tutto a primo membro e ordinando. Evidenziamo poi i coefficienti che ci serviranno quando andremo ad applicare la formula. x con 0 e y con 0 saranno le coordinate del punto P. Sostituiamo i valori e poi svolgiamo i calcoli. Il valore assoluto di meno 6 è 6. Come fatto anche prima, razionalizziamo per togliere la radice dal denominatore. Otteniamo 6 decimi radice di 10. Possiamo semplificare 6 e 10 fino ad ottenere il risultato finale, la distanza tra le due rette parallele. Vediamo il terzo esercizio. Dobbiamo determinare i valori di un parametro K affinché la distanza di un punto da una retta assuma un determinato valore. Applicheremo la formula della distanza ricavando un'equazione in K che dovremo risolvere. Iniziamo esprimendo l'equazione della retta in forma implicita, portando tutto a primo membro e poi evidenziando i coefficienti con i colori. Il coefficiente di x è 1 e anche quello di y è 1. Applichiamo ora la formula andando a sostituire i coefficienti della retta e le coordinate del punto che, dipendendo da K, trasformeranno questa espressione in un'equazione in K. Svolgiamo i calcoli fino a semplificare i valori a numeratore e ad argomento della radice. Ora possiamo liberarci del denominatore moltiplicando entrambi i membri per radice di 2. Facciamo la moltiplicazione e invertiamo i due membri. A questo punto possiamo liberarci del valore assoluto, ricordando che il valore assoluto di un'espressione variabile uguagliato a un numero T può essere riscritto come l'espressione variabile uguagliata a più o meno T. Allora possiamo togliere il valore assoluto e poi semplificare, dividendo tutto per due. Separiamo tutto in due semplici equazioni di primo grado in K, che risolte ci danno i valori che risolvono il problema. Per capire meglio perché si sono ottenuti due valori, sostituiamo K nelle coordinate del punto, trovando due punti P1 e P2. Rappresentando la retta e i due punti trovati, possiamo vedere chiaramente come la distanza dei due punti dalla retta sia la stessa, e questo spiega perché si sono ottenuti due valori di K. Il quarto esercizio è simile al precedente, con la differenza che il parametro lo troviamo nell'equazione della retta. Vedremo che in questo caso l'espressione da risolvere sarà più complicata. Evidenziamo i coefficienti A, B e C da sostituire nella formula. Applichiamola facendo le sostituzioni. Ora dobbiamo semplificare le espressioni a numeratore e denominatore. Facciamo le moltiplicazioni a numeratore e a denominatore sviluppiamo i quadrati di binomio. Per approfondimenti vi rimando ai miei video sui prodotti notevoli. Semplifichiamo poi il tutto. A questo punto dobbiamo risolvere un'equazione irrazionale fratta nella K con anche il valore assoluto, quindi un'espressione piuttosto complessa. Ci viene in aiuto il delta dell'espressione ad argomento della radice, che è negativo. Questo vuol dire che il trinomio non si annullerà mai, e inoltre, poiché il termine di secondo grado è positivo, questo trinomio sarà sempre positivo. Questo ci permette di elevare entrambi i membri al quadrato, senza il rischio di trovare soluzioni che non verificherebbero l'equazione. L'elevamento al quadrato ci ha permesso di togliere il valore assoluto, perché il quadrato del valore assoluto di un'espressione è uguale al quadrato dell'espressione senza valore assoluto. Ora togliamo il denominatore moltiplicando entrambi i membri per 2k quadro meno 2k più 5. Facciamo le moltiplicazioni a primo membro e sviluppiamo il quadrato a secondo. Portiamo poi tutto a primo membro e facciamo le operazioni tra termini simili. Infine, semplifichiamo tutto dividendo tutti i coefficienti per 4. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado che risolviamo trovando come soluzioni k uguale 1 e k uguale meno 11 noni, valori, soluzione del problema. Come per l'esercizio precedente vediamo a cosa corrispondono questi due valori. Sostituendoli nell'espressione della retta ricaviamo due rette distinte. Rappresentando le due rette e il punto P possiamo vedere come la distanza del punto P dalle due rette sia la stessa. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!